pronto buongiorno sono la maria di questi tifosa rosso blu da sempre in nord e pinuccio tu mi conosci bene sono quella delle acciughe nell'ultima partita che ti porto sempre allo stadio quella prima di natale sai o le acciughe o il polpettone cosa vuoi quest'anno vabbè vabbè comunque quest'anno sono andata né in tribuna perché ingradinata a nord ho paura al cuore sono anziana io c'ho l'abbonamento dal 1954 mio padre un socio fondatore del genoa club questi quelli tutti rosso blu è che belli che siamo comunque ci volevo dire a quelli là che l'unico derby che mi ricordo è quello di poselli che per noi adesso è diventata una partita come un'altra non ci interessa più noi siamo l'anti juve se gli arbitri non ci si mettono di mezzo noi li raggiungiamo hai capito e ce lo deve dire il capitano capitano nofri sempre bellule sempre bellu ce lo deve dire che niatri ci mancano in punti per colpa degli arbitri hanno ragione ha ragione giuric giuric come come si chiama giuri ha ragione è colpa degli arbitri perché se no noi saremo primi con la juve abbiamo la miglior difesa siamo fortissimi grazie al nostro presidente grande ma come si fa a contestare il nostro presidente vabbè voi ne sapete più di me di calcio sicuramente comunque ci volevo dire ne posso approfittare pinuccio visto che ci conosciamo che qui il 480 la mattina alle 7 fa fatica a passare che ci sono le macchine messe di traverso ce lo deve dire al sindaco con quel nome là strano quello di di quelli meridionali calabresi lì con quel nome lì ce lo può dire per favore 480 non passa e si crea traffico di salute sempre forse genua sempre colori rosso blu